sai molti di voi lo sanno io non ho mai avuto bisogno su youtube di fare dissing perché la gente non mi considerava anzi io mi sono preso colpe anche di altri e soprattutto mi è stato sottratto anche un canale ingiustamente che mandavo avanti solo io mentre altri se hanno due tre mila iscritti è grazie alle offese e ai dissing che facevano contro di me perché non erano nessuno non se li filava nessuno e ad oggi sono dei canali scoppiati che galleggiano solo grazie a qualche uno e fanno venire in live perché a non hanno argomenti b ormai le cazzate li hanno sommersi e c bisogna conoscere il calcio se apri un canale youtube secondo me almeno avere una piccola infarinatura tra l'altro vedo che purtroppo io lo sapevo vedo anche che non è servito a nulla salvare determinate persone perché qualcuno se ha ancora il canale dovrebbe ringraziare sia me che seven up ma sapevo che non sarebbe servito a nulla e tra l'altro ormai questo argomento di pif che noi abbiamo trattato sempre con serietà soprattutto nell'ultimo anno basandoci solo ed esclusivamente su documenti ufficiali non mi hanno detto che arrivano noi abbiamo commentato la situazione finanziaria la documentazione e abbiamo detto la nostra purtroppo ormai questa storia di pif è stata degli arabi è stata sporcata ci si giova sopra ci si deve galleggiare ci si deve fare quei 50 100 euro non lo so ma ormai una roba schifosa una roba sporcata io non ne parlo più anche per questo ma io non ne parlo più anche perché non ci sono novità perché vengono dette lesie tipo zang si o di aranco cioè ormai siamo alla follia più totale io qualcuno ci hanno detto che dice una volta quando sputinare appunto la dovresti riprendere in faccia qualcuno dovrebbe fare questo perché non è mai stato nessuno non è nessuno e se ha un canale youtube è grazie alle offese pesantissime che diceva a me perché gli fu chiuso anche il canale addirittura mi dicevano che io mi furono dette delle cose assurde poi dopo mi hanno chiamato mi hanno detto guarda ragazzo problematico dagli una mano per piacere io ho fatto quello che dovevo fare però vedi poi dopo succede gli fa male youtube a questa gente perché deve essere un divertimento perché non dovete dare i soldi a questa gente perché io dico sempre date i soldi a chi ne ha bisogno io con matteo il ragazzo disabile che poi ragazzo disabile sono come noi siamo tutti uguali per l'associazione atisb datele a quei ragazzi lì che hanno bisogno di fare ricerche per le malattie non a chi si strascia tutta la giornata o a chi ma io non ho nulla altro che chiedere soldi ma prima di dare i soldi a gente spara le calzate spendeteli meglio ma sai perché io le posso dire questo sui perché ho l'auscenza a posto non devo avere paura di nulla di nessuno perché io non ho mai fatto del male a nessuno e tra l'altro quando io ho sbagliato i miei errori me le sono pagati da solo non è che chiamava la mammina o lo scusi giuse capito non ha mai amato la mammina per me me le sono sempre me le sono sempre sciolti da solo i nodi capito da quando avevo 15 anni 14 15 anni studiavo e giocavo a calcio studiavo e giocavo a calcio finita la scuola dove addirittura io dici sì se sta io venni promosso perché fortunatamente a scuola andavo abbastanza bene andavo benino ero le superiori mio padre gli disse guarda babbo mi servirebbe uno scooter nuovo mio padre mi disse sì davvero hai visto il modello che ti piace sì babbo gli presi il cataloghino che tempi c'erano i cataloghini ecco bravo vai a lavorare da tuo zio e comprati il motorino molto semplice dopo la scuola promosso quindi vai al lavoro comprati il motorino finita finito il mesetto di lavoro due giorni di riposo poi preparazione del calcio preparazione del calcio scuola per diritti nella vita io mi sono sempre dato da fare ho sempre usato il mio di pistolino non ho usato mai quello degli altri e per arrivare non ho mai fatto giochi sporchi arrivo fino a dove le mie potenzialità e le mie qualità mi fanno arrivare con le amicizie con le donne nel lavoro arrivo fino dove devo arrivare io dove posso arrivare io su youtube è uguale piaccio bene non piaccio pazienza su un mio piacere a tutti chiudo la parentesi mi fermo qui perché è tempo buttato via voglio questo è un video un po più lungo mettetevi comodi voglio spiegare un'altra cosa innanzitutto saluto l'avvocato michele la francesca che molti di voi si ricorderanno perché è stato spessissimo ospite sul canale delle fantastiche live fatte con effenberg con rezzo eh con ale g e eh vi metterò il link dell'articolo che ha scritto michele la francesca proprio inerente allo stadio di san siro e inerente a quello allo stadio di ehm alla domandina perché è stata fatta una semplice domandina per lo stadio di rozzano allora sempre vi consiglio di leggere l'articolo di michele che metterò il link in descrizione allora nel dibattito pubblico seguite bene nel dibattito pubblico del comune di milano per la realizzazione del progetto di san siro da settembre a dicembre duemilaventidue dibattito pubblico del comune di milano per la realizzazione del progetto di san siro emersero già delle criticità emersero delle grandissime criticità perché non lo dice nessuno lo deve dire un tifoso da poltrona come me emersero delle gravi criticità tra l'altro hanno fatto la domandina per lo stadio lì di rozzano ma senza nessun progetto di fattibilità perché secondo te perché noi abbiamo tutta la documentazione di questo dibattito ci sono tutti gli allegati ce l'ha sia l'avvocato michele che l'avvocato pierre abbiamo la documentazione loro hanno letto l'avvocato michele ha studiato la documentazione ha fatto questo bellissimo articolo che per la seconda volta vi consiglio di leggere mi metterò il link in descrizione allora l'inter venne presa pesci in faccia in questo dibattito ci sono gli allegati ci sono i documenti che lo certifino che lo certifiano proprio perché non c'erano le garanzie le garanzie finanziarie ma di cosa stiamo ragionando di cosa stiamo ragionando ma ve lo ricordate lo sbrocco di sala oppure no l'ho detto stamattina l'ho detto l'ho detto prima dall'altro non tutta l'opera può essere finanziata oltre le garanzie c'è anche un discorso di cash subito non tutta l'opera può essere finanziata una piccola parte la deve mettere il proprietario il maggiore azionista subito subito è come quando vai a fare un mutuo ti danno l'ottanta per cento del valore della casa non ti danno il cento per cento quindi a Zang mancano sia le garanzie finanziarie quello che è venuto fuori dal dibattito che ti ho detto ora pubblico tra il comune di Milano e l'Inter mancano sia le garanzie finanziarie ma sia il cash dove ne piglia Zang e poi una cosa fondamentale è la continuità aziendale è fondamentale avere una proprietà che possa garantire una continuità aziendale non ti parlo di quella del 20 ottobre che scade perché quello ha un modo per innovarla per un anno lo possano anche trovare non ti parlo di quella lì serve una proprietà stabile e serve anche una continuità aziendale anche perché se no succede quello che è successo alla Roma e te lo vado a riprendere subito sempre un tweet dell'avvocato Michele che mi ha consigliato di guardare allora te lo leggo subito la continuità della proprietà è fondamentale per il nuovo stadio perché se dovesse esserci un passaggio di consegne ai nuovi proprietari potrebbero mandare all'aria il progetto se a loro non gradito attenzione esempio di ciò quanto accaduto con lo stadio romano di tor di valle decisivo e passò indietro del club giallorosso a fine febbraio la nuova proprietà statunitense la famiglia friedkin ha comunicato e non sussistono più i presupposti per confermare l'interesse al progetto lanciato dall'ex patron james pallotta ci siamo capiti questi problemi che sono che sono venuti fuori da questo dibattito nel comune di milano vengono fuori anche a rozzano perché mancano le garanzie finanziarie da dare al general contractor all'ente pubblico e manca anche la parte di cash da dare subito dove li prende il sangue non esiste nessuno stadio con questa proprietà se non uno stadio a parametro zero se trovate uno stadio a parametro zero forse lo possiamo prendere ad oggi quando il signore antonello parla di futuro radioso bisognerebbe bisognerebbe capire cosa intende la miglior cosa la miglior cosa sarebbe quella di intervistare di scusa come fai a parlare di futuro radioso va bene non è un miliardo e due di debiti giuse sono troppi perché va bene atteniamoci a new york times va bene new york times non sono gli esonerati un miliardo di debiti quanto vale l'inter 600 650 i debiti subitano su i debiti superano il valore dell'asset ci siamo su questo non ci piove ci siamo su questo non ci piove i debiti superano il valore dell'asset basta quindi con questa proprietà non è possibile fare nulla perché le criticità emerse nel dibattito pubblico con il comune di milano vengono anche con il comune di rozzano perché se non hai le garanzie finanziarie ripeto da dare al genere al contratto reale lente pubblico non vai da nessuna parte ma non manca solo quello manca anche la continuità aziendale e il cash che deve dare subito perché non è tutto finanziabile è fondamentale quindi risottolineamolo la continuità della proprietà che a talmente non può essere garantita non parlo di quella del 20 ottobre attenzione parlo di un'altra continuità aziendale non può essere garantita anche per la scadenza del prestito che c'è a maggio che sappiamo tutti ormai tutti hanno capito che zango non è in grado di restituire quindi come fai a garantire la continuità aziendale faccio un esempio a ottobre riesci a garantire altri 12 mesi quella quella carta straccia per se vuoi fare uno stadio cosa te ne fai di quella parlo di un'altra continuità aziendale che non si sa nemmeno vi sarà il proprietario dopo maggio ancora per me lo sapete chi sarà ma chi chi è il proprietario ti dice quello dello stadio chi garantisce che zango non puoi garantire la scena riapre i rubinetti è l'unica è l'unico è l'unico modo che la cina riapre i rubinetti ma la cina i rubinetti non li apri non fanno certo l'eccezione per zango in cina che riaprono i rubinetti e cominciano a mandare centinaia di milioni a lui per l'inter poi tra l'altro i processi ha i soldi da restituire evergrande tutti i bordello che c'è in cina secondo te il governo cinese si occupa del niente cosa gliene frega a loro del niente questo è quello dovevo dire più tardi faccio un video su come affronterei il milano ciao in te a presto